Ciao, mi chiamo Sharon. Ma per noi ci sarà ancora lavoro in un futuro quando saranno i robot a fare tutto? La tecnologia non è una buona cosa per tutti. Oggi le nuove tecnologie stanno rimpiazzando chi fa un lavoro più di routine. Compiti che richiedono abilità che pensavamo ci sarebbero bastate fino alla pensione. Sono quelle che definiamo abilità di livello medio, che oggi sembrano venire sostituite sempre più facilmente. Per questo c'è apprezzione. Si è preoccupati per quegli impieghi di routine che stanno nel mezzo della distribuzione dei redditi. Pensiamo ai cassieri delle banche come tipico esempio di compito che potrebbe venire sostituito dalle macchine. Però se guardiamo alla storia, al passato, vediamo che tipicamente sono sempre sorte nuove opportunità. Per questo nel complesso sono ottimista e non mi preoccuperei più di tanto dei robot. Per questo nel complesso sono ottimista e non mi preoccuperei più di più di più di più. Per questo nel complesso sono ottimista e non mi preoccuperei più di più di più.